Partita la batteria numero 3 della Ticinebra, bevi l'acqua Francesca che non è presente, Maggio Chiara, Formosa Giulia e Conca Cecilia. Queste le atlete che stanno ancora sul percorso di gara, che stanno per uscire di curva in questo momento, taglieranno il fraguardo consegnando a noi il loro tempo di riferimento che risulta essere esattamente di 30 e 26. Proviamo con la batteria numero 4.